Musica Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Legolasev90 E vi do il benvenuto a questo deathmatch a squadre su Call of Duty Black Ops E wey, come vedete una clip molto veloce, neanche 3 minuti Una clip che mi permetterà di mettere in evidenza uno dei difetti, diciamo anche, già conosciuti Di molte pistole mitragliatrici, come un PM63 che vedrete in questo video Ma anche di altre, ad esempio uno Scorpion, un MEC-11, ma perché no, anche un MPL Di cosa sto parlando? Beh, essenzialmente della capacità di caricatori molto ridotti E soprattutto anche un numero di munizioni di riserva molto esigue Guardate qua, dopo neanche 3 kill, di cui una fatta anche col coltello Mi ritrovo già con pochi proiettili, neanche una quarantina a disposizione E questo sì, è un piccolo gradino, un piccolo ostacolo secondo me di queste armi Perché? Perché diciamo che non ci consente di utilizzare altri perk al di fuori di sciacallo Per esempio questa partita utilizzo leggero Sì, non sarebbe male, però se una persona volesse disputare un'intera partita Con una pistola mitragliatrice, magari cercare di raggiungere le proprie serie uccisioni Senza essere costretto a raccogliere un'arma secondaria Beh, in tal caso è costretto a utilizzare sciacallo Con leggero, come vedete, è necessario e d'obbligo raccogliere subito un'arma dal cadavere di un nemico O magari anche di un alleato Perché, come in questo caso, dopo poche uccisioni, 6 uccisioni Di cui fatte molte con le MP5K Le munizioni sono esaurite E questo è un piccolo difetto di queste armi Magari se si avesse a disposizione un numero di munizioni di riserva maggiore Sarebbero migliori Poi certo, insomma, sciacallo è anche un boom bonus Però spesso ti costringe ad adottare uno stile di gioco diverso Io con leggero, come in questa partita, riesco a muovermi molto di più Riesco proprio a fare quello che mi sono portato a fare in tutti i gameplay Ossia a lasciare, a giocare in questo modo, un po' aggressivo E sciacallo un po' mi frena da questo stile di gioco E inoltre, devo dire che anche queste armi, comunque, complessivamente Si trovano anche in svantaggio rispetto ad un Famas Pensate a un Famas, ha davvero una grande capienza Ha molti colpi a disposizione E, beh, senza alcun dubbio Si presenta con un vantaggio rispetto a una pistola mitragliatrice Forse una soluzione potrebbe essere anche mettere comunque dei caricatori aumentati Sulle pistole mitragliatrici Spesso su Scorpion e Mac-11 lo faccio Su PM-63 preferisco il fuoco rapido Questo è tutto per questa clip Vi ringrazio per l'attenzione E ad un prossimo video Ciao belli!